Grazie Bravissimo Gamba avanti Brava 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 Continua Continua Con la gamba davanti Esatto Intenta con la gamba davanti Brava Brava e vieni, così, avanti te, avanti te, bene, parti con il sinistro, no con il destra, attacca tu, comincia tu, esatto, 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 vai, vai, attacca ora, così che è finita, vai, attacca le gambe, così, vai, attacca subito, attacca subito, attacca, subito, così, sinistra e lei, continuo, so, 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 Continua alza le gambe So, so, so Vai, fra, vai, fra Vai, attacca Vai, fra Vai, fra Vai, fra Vai, fra Vai, fra Dai, dai, dai So Vai, fra Vai, fra Vai, fra Vai, fra Brava Quello devi fare Non sei qua Vai, fra 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 Su Vai, e rientra Circolare E' questo Vai, fra Vai, fra Vai, fra Ciudiamo le gambe, e rientra adesso Subito Vai, fra 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 non puoi non alzare così in francese direttamente aspettala 30 secondi dai dai bravo 3 secondi dai bravo richiama la città dai bravo bene guardala dai bravo dai bravo chiudi dai 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 vai dai dai chiudi chiudi dai 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 vai avanti dai 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 I got it right from you!